di 2,60 metri. Questo significa che non sono solo delle tombe individuali, ma sono delle tombe familiari, caratteri familiari, destinate a durare anche per molti secoli, fino a colmatura. Erano delle tombe che dovevano far notare la potenza della famiglia, erano degli status single. Quindi le ossa sono sicuramente di persone che avevano delle relazioni comunque di consanguinità. Questo ci ha restituito un archivio biologico importantissimo. Veramente verrà indagato tomba per tomba. L'allestimento dell'intero percorso sarà completato con dei lavori successivi, mentre continua l'indagia e i reperti rinvenuti. Analisi che permetterà di accrescere le conoscenze sulla cultura materiale ai tempi dello splendore della Repubblica Marinare di Amar. Noi abbiamo rinvenuto dei piccoli anelli in argento che hanno una tipologia caratteristica, quella delle manine strette tra di loro, che è quella di anelli di finanziamento.